Ciao a tutti, mi chiamo Paolo e compilo dichiarazioni di redditi da 39 anni. Questa intro l'ho rubata da un altro youtuber molto più famoso di me, soltanto che io ho uno zero in più di esperienza. È vero, ho compito dichiarazioni di redditi da 39 anni, chiaramente la prima, il famoso 740 1983, l'ho compilato con l'aiuto della mamma. Altri tempi, all'epoca sì che erano veramente difficili da compilare, adesso è una passeggiata di salute, i conti li fanno tutti loro, se avete internet potete chiedere a chiunque. Questa breve serie di video non vi dirò come si compila in dettaglio le dichiarazioni di redditi, o meglio sì, in gran parte sì, ma non vi darò sicuramente il lavoro che fa il vostro commercialista, bensì vi insegnerò a leggere le istruzioni, leggere una skill che viene insegnata in seconda elementare, ma che a quanto pare molti non hanno, spero solo, voglia di fare. Iniziamo dalle scadenze. So che state ricevendo frenetici sms da parte dei CAF che vi invitano a andare lì per fare il 730, tranquilli, 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 la scadenza è settembre, settembre. Per l'RW, che so che questo è quello che vi fregola di più, tranquilli, la scadenza è novembre e va presentata in maniera indipendente dal 730. Ok? Quindi, stay calm. L'unica cosa sulla quale dovete stare meno calm è qualora i quadri finanziari, RW, RT ed RM, prevedano per voi dei pagamenti, perché il fisco italiano estremamente contorto prevede la consegna entro novembre, ma i pagamenti entro giugno, con la possibilità di shiftare al 22 agosto con la solo sovrapprezzo di 0,4%. Quindi consiglio addirittura di shiftare tranquillamente, aspettare, magari arriva qualche chiarimento e cose del genere. Quindi in questa breve serie di video andrò lungo tutti i percorsi proprio facendo vedere a schermo dove metto i numeri e da dove li prendo, del 730. Non farò tutto ovviamente perché la normativa italiana ha 74.800 regole e 18 milioni di eccezioni, ma farò diciamo quelli più tipici e quelli che conosco io per interesse personale. Tranquilli, concluderò, ma alla fine, quindi dovete averlo tutto, con il famosissimo quadro Rw che in ordine alfabetico arriva per ultimo e quindi alla fine avrete il succo, quello che vi interessa, perché vi interessano soltanto come mettere i numeri lì. E non so, la cosa più semplice da evadere in Italia sono le criptovalute e voi tutti quanti dovete assolutamente invece dichiararle. Me ne compiaccio, me ne compiaccio ma mi stupisco. Benissimo, la prima cosa da fare in assoluto è scaricarsi le istruzioni. Sembra strano, eh? Esatto, proprio quelle, le istruzioni. Andiamo sul sito, opet, eccomi qua. Ecco qui le istruzioni. Sono sul sito, l'agenzia delle entrate, cercate agenzia delle entrate, istruzioni 730 2022. Per chi non fosse a bezzo, è il 730 2022. Stato perché me le mette di qua? Ebbene, ci mettiamole di qua, così ci stanno. È il 730 2022, ma i redditi sono quelli del 2021, eh? Una delle bizzarrie fiscali, perché voi lo fate nel 2022, mi ha riferito a redditi nel 2021. Queste vi dicono tutto. Capisco che leggersi 100 e 100 pagine è una rottura di scatole, per chi non ha voglia di leggere neanche una. Però in piccola parte vi toccherà leggerle. Allora, intanto vi dice chi può presentare il 730. Giudici costituzionali, sempre casi molto ampi, titolari di cariche pubbliche elettive, ok, scherzi a parte, sostanzialmente tutti quelli che hanno avuto un lavoro dipendente. Ci sono anche altri casi che possono presentare il 730. Se siete dei casi strani, ve li andate a leggere. Penso che il leitmotiv di tutta questa serie di video sarà questa. Se siete un caso strano, c'è scritto nelle istruzioni. Vedete, possono utilizzare anche chi ha percepito, partite IV e cose del genere. Normalmente non possono presentare il 730, ma io mi aspetto che voi lo sappiate. Mi aspetto anche che abbiate un commercialista. Ci sono dei casi in cui non dovete presentarlo. Io vi consiglio vivamente, anche se siete in questi casi, fate tutti i conti lo stesso. Perché magari salta fuori che avete soldi che vi arrivano indietro. Voi non presentate niente e non vi arriva indietro niente. So che la gente smagna per essere esonerata, ma fate anche in questi casi, fatelo. E anche se siete a carico, uno dei luoghi comuni più diffusi nel fisco italiano è che chi è a carico fa parte integrante dei genitori. No, non è vero. Ha la sua dichiarazione dei redditi. Poi quasi sempre è esentato, perché se è a carico è perché ha redditi bassi. Ma anche chi è a carico si faccia i conti nella dichiarazione dei redditi e veda se magari riesce a recuperare qualcosa. Ok. Benissimo. Bla bla bla. Ah, questi sono quelli che invece devono presentare l'altro modello. Cioè l'altro modello è perfettamente analogo, soltanto che i conti non li fa lui. È meno semplificato, diciamo. Quindi se siete in questi casi qui, tipo avete allocazione più di 4 appartamenti, robe veramente strane, dovete presentare dichiarazione IVA, eccolo qui. Avete redditi da trust in qualità di beneficiario. Non lo sapevo, perché io pensavo di fare un trust. Eccetera, eccetera. Avete redditi d'impresa. E in tutti questi casi non potete fare 730. Dichiarazione congiunta, fatemi piacere, perché non fatela, che fa solo casino. A meno che proprio uno dei due sia l'unico che ha il datore di lavoro e quindi può percepire gli rimborsi. Ok. Benissimo. E vediamo come entrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ok. Sono andato su agenzialdelleentrate.gov.it Indispensabile è possedere una speed. Come? Cioè non hai una speed? Ciao. Su Sveglia 2022, se non hai la speed, veramente, cioè, cosa stai guardando questi video a fare? Speed è fondamentale anche per prendere un miliardo e mezzo di contributi, cose strane. Ci ho preso anche il contributo sulla monowater, io. Ok. Quindi speed, io dopo scontato che voi l'abbiate, io ne ho addirittura due, vi faccio questa flash news, si possono avere più di una speed. Consigliato, magari una delle due non funziona. Speed, pa 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 pa. Ok. Entra con speed. Entra con speed. Sono sempre in ordine diverso, eh? Ok. Io ho già dentro la mia password, mi arriva la notifica sul cellulare, alcuni invece della notifica hanno, hanno l'OTP, la notifica è decisamente più comoda, se funziona. Ponte digitale, fatto, entrato con speed. Ok. Devo autorizzare l'agenzia delle entrate a sapere il mio codice fiscale e ci mancherebbe. Ok. Adesso sono dentro. Ok. Direi che la dichiarazione precompilata è abbastanza evidente. Ok. Fatture elettroniche. Io vi consiglio di attivare le fatture elettroniche. Vuol dire che voi potete vedere le fatture elettroniche che vi arrivano e scoprirete che milioni di gestori di servizi che voi non lo sapevate vi mandano fatture elettroniche. Comodo quando vi serve scaricare una fattura che non avete senza chiedere la trovate qui direttamente. Chiaramente trovate solo la versione fatture elettroniche quindi la versione in XML quella che non è leggibile da un umano che non sia un informatico. Vabbè, a parte questo passiamo alla dichiarazione precompilata la tua dichiarazione. Ok. La mia dichiarazione precompilata è stata elaborata il 29 aprile. Dal 23 maggio posso visualizzarla dal 31 maggio posso accettarla bla bla bla. Fate cambio anno di dichiarazione solo se volete rifare quello degli anni precedenti per motivi di ravvedimenti operosi e cose strane del genere. Ora, scegli... Ah, visualizza i dati. Io consiglio di iniziare qui. Diamo una visualizzazione generica. Ok. Queste sono tutte le voci da cui l'agenzia delle entrate ha tratto informazioni. Potete averne di meno o potete averne di più. La certificazione unica. Ok. Qui il mio datore di lavoro. Questi sono i famosi CUD che vi arrivano. Ok. E i redditi di terreni. Io sono un imprenditore agricolo c'ho anche i terreni. Ah, eccolo qui. Eccolo qui. Ah no. Gli ha presi banalmente dalla dichiarazione dell'anno precedente. Vi dice anche da dove li prende. Redditi di fabbricati. Lavori dipendenti assimilati. Ok. Onere e spese. Questo è importante perché ci sono le spese sanitarie. Ad esempio vedo che ho acquistato 286 euro di farmaci, 60 euro di dispositivi medici, 120 euro di interventi e visite specialistiche e 1 euro e 08 per ticket. Ok. Io qui vi consiglio di fare vedi dettaglio e di andare a guardare il dettaglio. Beh, possiamo farlo. Eventualmente censurerò qualche spesa medica di farmaci tipo il Viagra che alla mia età serve. Ok. Ecco qui. E qui. E vediamo un po'. C'è tracciato e non tracciato. Non tracciato mi dicono, ma mi dicono solo, che siano le farmacie che non hanno comunicato perché io pago ovviamente sempre con la carta di credito. Ci credo, c'ho un cashback che va dal 4 all'8%, ci mancherebbe che non pago con la carta di credito. Non tracciato ci sono le farmacie che ogni tanto non comunicano all'agenzia dell'entrata che è stato pagato con la carta di credito. E tra l'altro vedo che è sempre la stessa. Vedete, è sempre la stessa. e io sono sicuro che in quella farmacia pago sempre con la carta di credito. Ora, io consiglio per quelle non tracciate di farsi il calcolo e vedere se sono state inserite dentro la somma totale. Se non sono state inserite e voi siete sicuri di aver pagato con metodi tracciabili, mettetele. Cioè, rifate il calcolo e poi andrete ad aggiornare le spese mediche quando inserirete il numero. Sono andato a farmi il calcolo, intanto il numero che vedete in alto in blu è il numero totale di tutte le spese che vedete elencate. Quello proprio banale banale e non vi serve a nulla. Invece dovete esplodere tutte le voci col più, aprirle e considerare le spese per le prestazioni sanitarie, quindi visite mediche, esami diagnostici, i ticket, dispositivi medici e farmaci. Non contano invece le altre spese. Fate la somma di tutto questo, mettete le spese mediche anche dei familiari a carico che se li avete, c'è il menu a tendina e potete cambiare il codice fiscale per le spese mediche, vedete quelle dei familiari a carico. Ovviamente metà se è a carico per metà o tutte se è a carico interamente, quella somma lì deve essere la somma che risulta nel quadro degli oneri e spese che vedremo nel prossimo video. A me risulta corretta, quindi anche quelli indicati come non tracciato mi sono stati correttamente selezionati, quindi io non farò niente a questo punto. Non metto a guardare tutti i miei scontrini a confrontarli perché esco pazzo e regolarmente mi mancano metà degli scontrini. Altrimenti secondo me potete anche evitare di andare a modificare le spese mediche. Se ad esempio manca una spesa da 3 euro io vi consiglio di non metterci mano anche perché spesso le informazioni che all'agenzia delle entrate sulle vostre spese mediche sono di più delle informazioni che avete avuto. E vi ricordo che se per caso avete ricevuto dei rimborsi dei rimborsi nel 2021 questi vi scalano dalle spese mediche. Se però avete ricevuto i rimborsi nel 2021 riferiti a spese mediche del 2020 o anni precedenti questo vi conterà come reddito. È già tutto dentro non dovete fare niente. Non è il mio caso perché non ho assicurazioni sanitarie. non può capitare qualche assicurazione sanitaria vi dia dei rimborsi e se sono riferiti a spese del 2021 semplicemente vi scalano dalle spese mediche. È già automatico. Se invece sono riferiti a spese dal 2020 indietro non vi scalano dalle spese mediche vi risulta come reddito cosa che è molto antipatica. oneri da ripartire in più anni questi sono gli interventi di Lizzi ne ho una scaterrata ok se ci sono quelli con la X vuol dire che risultano dei vostri bonifici come vedete io ne ho fatti a piene mani risultano dei vostri bonifici ma che non avete segnato negli anni precedenti io non li ho segnati perché sono finito sopra soglia c'è un limite di soglia per i bonifici da ristrutturazione a conti ritenuti eccedenze non so cosa sia oneri spese ok a posto adesso scegli il modello quindi date una visualizzazione generica vedete che ci sia tutto se manca un code che già potete iniziare ad allarmarvi e soprattutto date una controlla a quel non tracciato delle farmacie ok vuoi essere guidato e lasciate la dichiarazione io ho già scelto no e vedo che adesso ricomincio facciamo no non ricomincio no va bene ok ho letto ok scegliete il modello 730 per compilato non fatevi guidare a meno che non siate incerti se potete o non potete fare il 730 in quel caso fatevi guidare scegliete sì 730 per compilato conferma scelta ok qui avete il vostro 730 per compilato se premete su calcola vi dice di quanto siete a debito o a credito ad esempio io adesso penso di essere a credito di una vagonata perché con tutti gli interventi edilizi che ho fatto ah no se non avete tutti i quadri ben fatti e completati non ve lo dice ok io sconsiglio di fare accetta al volo come minimo dovesse visualizzarlo però in questo caso passeremo a modifica ecco qui il 730 avete tutti i quadri ok beh dati anagrafici adesso io lo faccio poi eventualmente taglio dei pezzettini in cui ci sono i miei dati personalissimi editare questo video continuando a occultare i dati è veramente un incubo comunque nei dati anagrafici voi dovete dare un contolino di massima se alcuni dati mancano non preoccupatevi perché la gestione delle entrate abituata ancora ai modelli cartacei in cui bisognava compilare con la pennina non vi chiede dati se non sono cambiati quindi se la residenza non è cambiata non dovete indicarla non stupitevi che non è indicata e anche il domicilio fiscale al primo gennaio 2021 domicilio fiscale al primo gennaio 2022 se non sono indicati infischiatevene l'unica preoccupazione che dovete avere è se avete fatto dei cambi di residenza nel corso del 2021 in quel caso abbiate cura a indicare il domicilio fiscale al primo gennaio 2021 e al primo gennaio 2022 l'indirizzo email io sono tipo più di vent'anni che lo metto e non sto esagerando mi avessero scritto una volta un'email a quell'indirizzo lì di solito se vi devono scrivere qualcosa arriva nel cassetto fiscale del sito web e all'indirizzo email che avete comunicato soprattutto se avete comunicato una PEC quindi soltanto una controllatina 99% sono giusti se avete cambiato residenza sistematela e anche se avete cambiato domicilio fiscale che vi ricordo non necessariamente coincide sempre con la residenza scelte 8 5 2 per 1000 anche qui fate le vostre scelte ok vi ricordo che potete sempre fare nessuna scelta se non fate nessuna scelta vengono ridistribuiti secondo le scelte degli altri penso è una cosa un po' misteriosa questa e allora 2 per 1000 sono i partiti politici quello era invece l'8 per 1000 ecco qui sostegno qui qui va il codice fiscale del centro felix ok questi sono i partiti politici ok adesso io mi limito a fare nessuna scelta codice fiscale del centro felix troviamolo subito eccolo qui dov'è codice fiscale ecco guarda che sito old style che ho fatto eccolo destinate nessuno nessuno perché io temo sempre che un giorno arrivi una dittatura e mi dica perché tu tre anni fa hai dato i soldi all'altro partito in galera quindi io non do mai niente a nessuno anche qui sia mai che arrivi una dittatura che so buddista e mi dica perché hai dato i soldi ai luterani quindi per sicurezza perché queste creazioni pubbliche secondo me a me non piacciono e ho fatto? posso salvare? ok me la fa salvato sostituto d'imposta i dati le vostre sostituto d'imposta dovrebbero già esserci altrimenti ve li prendete fate nuovo sostituto nessun sostituto nei rari casi in cui potete fare il 730 pur non avendo un sostituto d'imposta in quel caso dovrete pagare voi o verrete rimborsati su Ivan ok familiari ve li compilate con i familiari a carico forse vale la pena indicare chiaramente che sono i familiari a carico ecco qui dalle istruzioni allora i membri della famiglia anagrafica che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2840.51 euro all'ordo degli oneri deducibili questo vuol dire che devono farsi i conti per quello io consiglio anche a loro di fare il 730 e inoltre i figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito uguale o inferiore a 4000 euro all'ordo degli oneri deducibili ok vanno computate anche le seguenti somme anche se normalmente non fanno parte del reddito complessivo bla 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 eventuale cedolare secca chiaramente se il figlio percepisce il cedolare secca anche se non fa parte del reddito complessivo eccetera eccetera e poi c'è un mucchio di cose particolari io consiglio vivamente se qualcuno ha dei dubbi di leggersi queste cose particolari ricordate leggete le istruzioni sembrasse incredibile per la burocrazia italiana ma la maggior parte le risposte stanno nelle istruzioni terreni per chi come me è ricco e ha dei terreni dovete indicare i terreni voi immagino abbiate un foglietto catastale vado veloce qui perché immagino che pochi di voi abbiano terreni anzi se qualcuno vuole acquistare questo cappero di terreno che ho io che ha come vedete il reddito agrario 7 1 1 12 1 1 quindi questo ricco terreno ok quindi se avete dei terreni immagino che abbiate un foglietto catastale in cui ci sono scritti tutti i dati in particolare c'è il reddito dominicale reddito agrario sono le uniche due cose che vi interessano il titolo di possesso è sempre proprietario il mio caso è non concessione affitto sta lì e marcisce la principale di possesso e siamo a posto e vi ricordo che se come nel mio caso il terreno è frazionato pur essendo un terreno a blocco unico è frazionato in pezzettini e niente vi dovete indicare ogni pezzettino io mi ricordo che la mia mamma e la mia mammina mi faceva indicare il terreno a blocco invece no va indicato a pezzettini ad esempio uno di questi pezzettini è una striscia diagonale che attraversa il terreno perché ci passa sopra un cavo elettrico e quella striscia la servitude elettrodotto quindi è diversa dal punto di vista catastrale rispetto alle altre insomma va bene se siete coltivatori diretti immagino che lo sappiate ok per la maggior parte dei terreni sono terreni agricoli è tutto irrisorio qua ok io sono ben contento di questo e lo salvo una cosa buona da fare sarebbe confrontare e dopo lo farò da solo adesso non lo faccio per tediarvi confrontare questi numeri con i numeri del 730 precedenti perché è vero che l'agenzia delle entrate li ha recuperati dal 730 precedenti ma è anche vero che non si sa mai fabbricati ecco io con i fabbricati ho un casino totale e qui stessa cosa dovete avere i dati catastali dei fabbricati e metterli dentro paziente paziente ricordo che a differenza dell'imu per i fabbricati nella dichiarazione dei redditi si calcano esattamente i giorni sul limu invece va a mesi rendita utilizzo qui normalmente c'è l'abitazione principale questa è quella sfitta diciamo questa è quella affittata a ecocanone esiste ancora chi l'affitta a ecocanone ok questa è quella affittata a ecocanone ma l'ecocanone è vero non i patinderoga l'ecocanone è vero se l'avete affittata a ecocanone state prendendo pochissimo questa affittata col 3 più 2 col 4 più 4 una pertinenza dell'uno vi ricordo che le pertinenze non devono stare necessariamente nello stesso fabbricato basta che stiano abbastanza vicino dove il termine abbastanza è a vostra discrezione ok questa è invece scusate no ho sbagliato questo è il 3 più 2 il canno è concordato si 3 più 2 ma nei comuni ad alta densità abitativa leggete le istruzioni c'è l'elenco chiaramente questo mi chiedo cosa sia a fare quando lo date gratuitamente a un vostro familiare e un altro e un altro mucchio di cose strambe ok giorni di possesso di solito 3,6,5 percentuali di possesso 150 quello che è qui se lo state dando in affitto vedete voi se avete optato per la cellulare secca o per la tassazione ordinaria o per la tassazione ordinaria e siete imposti dove si calcola solo il 75% ok il canno di locazione vi ricordo annuo lordo se l'avete affittato casi particolari ah si vedo che c'è questo potrebbe essere un caso particolare ok continuazione se per caso un immobile lo avete dovuto spezzare in più righi perché ad esempio era abitazione principale per qualche mese dopodiché è passato ad essere seconda casa dopodiché l'avete dato in affitto cliccate qui continuazione del rigo precedente intende il comune dove sta se l'avete affittato qualora in cielo l'aria secca questa è una delle caselle che io mi sono sempre chiesto che cazzo ci sta a fare allora vogliono sapere se è diverso l'abitazione principale relative a protinenze se è l'abitazione principale per le quali è dovuta l'IMU peccato che l'IMU sia stata tolta da tutte le abitazioni principali se è non locato assoggettata di IMU nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale o se è nessuno di questi tre casi ora io intanto mi chiedo cosa ha che fare l'IMU con questa dichiarazione di redditi che è una tassa che non viene pagata qui ma veramente questa è totalmente assurda sta domanda ok e altri dati cosa sono? ah ok per le locazioni brevi ok comunque i dati catastali sono fondamentali per avere la rendita ricordo che qui non va messa la rendita rivalutata del 5% mentre se voi compilate il modello reddit pf lì va messa la rendita rivalutata del 5% questo è semplificato va messa la rendita normale poi lui calcolerà la rivalutazione del 5% ecco qui ho sistemato un po' i miei dati facciamo proprio un esempio pratico questo è un appartamento una seconda casa rendita catastale 413 ne possiedo metà la seconda casa era affittata per un mese poi l'inquilina è venuta a mancare nel suo proprio metaforico del termine e codice canone 3 era in cittolare secca era nel comune a 952 qui canone di locazione e qui vi spiego a cosa servono le istruzioni io mi chiedo devo indicare il canone che era originariamente previsto per tutto l'anno oppure devo indicare solo quello che è effettivamente percepito perché poi il contratto è stato interrotto beh qui ci vengono in aiuto le istruzioni per quello dico sempre leggere le istruzioni sono andato a guardarmi la colonna 6 canone di locazione riportare il io ho indicato 95% parla di canone annuo quindi apparentemente devo indicare il canone annuo che nel mio caso era anzi scusate ho sbagliato oppure adesso mi rendo qua era 500 non era 600 che nel mio caso era 6.000 però qua sotto scrive se il fabbricato è concesso in locazione solo una parte dell'anno il canone annuo va reindicato in proporzione ai giorni per fortuna perché altrimenti mi avevo fatto pagare su di 6.000 quindi essendo solo 31 giorni 500 ok inoltre mi chiedo ma siccome è in comproprietà devo indicare 500 o 250 anche le istruzioni mi vengono in soccorso diciamo un buon 90% dei casi sono risolti dall'istruzione automaticamente e la montata del canone in caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso quindi sono abbastanza confidente che poi i carcoli li faranno loro ok poi qui per gli altri giorni dell'anno metto continuazione ok e utilizzo immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione ok qui in realtà in questo periodo io stavo facendo dei lavori di ristrutturazione in questo appartamento allora andiamo a vedere se nelle istruzioni è previsto quello che vi ho detto prima perché è vero che stavo facendo dei lavori di ristrutturazione ma l'appartamento era in parte ancora abitabile le unità mobiliari per cui sono state rilasciate licenze concessioni autorizzative per restare risanamento conservativo o ristrutturazione per il solo periodo di validità del provvedimento quindi se io l'avessi ristrutturato con l'irregolare concessione licenze edilizia o autorizzazione del comune avrei potuto non metterlo ma siccome l'ho ristrutturato in nero no non è vero siccome forse non lo sapete ma i regolamenti per le autorizzazioni edilizie sono completamente diversi da comune a comune in quel comune lì per i tipi di risanamenti che volevo fare io non serviva nessuna richiesta e quindi io l'ho ristrutturato senza alcuna richiesta e quindi non ho la licenza concessione e autorizzazione e quindi lo devo indicare però se avessi avuto licenza concessione e autorizzazione per tutta la durata di questo intervento per tutta la durata della licenza io avrei potuto non indicarlo è poco male insomma mi salasserà un pochettino 413 direi intercatastrale percentuale di possesso 50 sì spero che sì me la tasserà la mia europef ok ricordatevi comunque continuazione perché è riferito al l'anno prima ma qui ho dimenticato importantissimo cedolare secca casi particolari IMU sì è diverso dall'abitazione principale relative pertinenze e anche questo è diverso dall'abitazione principale questa è una cosa assurda buon direi che ho fatto tutto stavo per dimenticarmi i dati relativi al contratto di locazione dovete identificare il rigo che riguarda non tanto quell'immobile ma quella situazione nel mio caso il mese di gennaio quindi rigo numero 5 ok modello numero 1 perché per adesso ne abbiamo uno solo perché ci possono essere più modelli lo spiego tra un attimo e qui tutti i dati della registrazione ricordo che per il contratto di locazione la registrazione è obbligatoria e fatemeli prendere dalla mia registrazione anzi li prendo banalmente dalla dichiarazione dell'anno scorso ma allora data registrazione 0701 07 sì buonotte 0701 2009 un contratto lunghissimo serie 3 numero 59 sotto numero esiste anche sotto numero nessuno codice ufficio tbd è lui ok codice identificativo del contratto niente anno di presentazione cimo 2001 questa è la roba più assurda cosa c'entri cosa sia non lo so però io eseguo ok allora perché potrebbe esserci più di un modello beh perché il modello digitale che avete in mano si rifà al modello cartaceo nel modello cartaceo c'è soltanto 6 righe di spazio se voi avrete più di 6 situazioni immobiliari cosa dovrete fare qui dovrete proprio aggiungere un foglio e questo lo simula qua sotto la mia faccia se fate scroll in alto trovate un più e aggiungete un altro foglio completamente bianco è scomodissimo per chi lavora in digitale perché in digitale chiaramente basterebbe metterci qui un più e aggiungere altre righe senza problemi se potrebbero aggiungere infinite e ve lo dice chi si occupa di insegnare database tra le varie cose ma se volendo replicare fedelmente il modello cartaceo dobbiamo replicare anche questa idea che ci sono i fogli lo vedremo anche dopo con le ristrutturazioni perché io tipo ho 4 fogli di ristrutturazioni che rende il tutto molto scomodo benissimo e direi che con i fabbricati che adesso io mi sistemerò i miei abbiamo concluso questa prima parte perché c'è già sin troppa roba e andremo avanti la prossima parte con invece i redditi da lavoro dipendente altri redditi e se riesco anche gli oneri ciao 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 ciao